Salve a tutti ragazzi ed eccoci a un nuovo video di Clash Royale e adesso un omaggio che significa poi si migliorabile il coppio va bene questo 10 carte si ho capito però devo spennare i gemmi non le spennano i gemmi ma mai cos'è il baule della corona apri questo è un po' di polizia c'è lì 140 oh è il gemma su voi mhm mini pecca poi alchilia si si molto non te lo dico io andiamo a migliorare non te lo dico io non te lo dico io oh qual'è l'altra da migliorare? per goblin c'è stava un'altra buono dov'hai? migliora si si migliora pure questo posto si 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 allora io non te lo dico usa allora usa stuoso rimpiazza lui non serve a niente poi no questo che fa? info no finora c'è un battente di me semplice dannare intorno a sé non c'è nessun problema vabbè le frecce la potenzia vai andiamo a combattere voto lo dico io su p di qui è in la non chi qua vedo Grazie a tutti. 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 Voglio subito fare una premessa. E' troppo fa mettere solo vittorie. C'è, sono bravi tutti. Pertanto ritengo che sia giusto mettere anche le proprie sconfitte per far vedere agli altri come ho perso. Così che gli altri vedendo le tattiche e le tecniche che ho usato non perdano anche loro, non commentano anche loro gli stessi sbagli. È tutta esperienza ragazzi. Pertanto ritengo più giusto caricare video sia dove vinco che perdo perché è più realistica la cosa. Se il video vi è piaciuto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e commentate. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash Royale.